buongiorno oggi voglio illustrarvi un sistema di trading molto rilassante e statisticamente molto con le chance a favore del trader all'interno di una campana gaussiana quindi all'interno delle probabilità noi faremo trading quando avevamo il 95 per cento di probabilità di riuscita su cosa si basa questo trading questo trading si basa su uno spread su uno spread di trading cioè venderemo un titolo e ne compreremo un altro però non con la classica correlazione ma bensì con la cointegrazione la cointegrazione è una cosa molto diversa dalla correlazione ed è sostanzialmente una relazione che si deve creare fra due titoli che noi dobbiamo cercare il software cerca in modo molto veloce quando abbiamo trovato questa relazione e facciamo consideriamo appunto che sia una relazione stabile quindi va controllata come relazione stabile e quando abbiamo appunto le probabilità a nostro favore metteremo a mercato per spiegarvelo così immaginatevi di avere di vedere un cane ed un padrone che fanno il suo padrone che fanno una passeggiata c'è un guinzaglio che è la loro relazione sostanzialmente quanto distanti loro stanno camminando quindi non sapremo mai esattamente a che distanza possono andare quindi è una distanza che è random ma di certo noi sappiamo che la massima distanza a cui si potranno trovare sarà quando loro sono alla massima distanza della lunghezza del guinzaglio allora questo guinzaglio che è la relazione che hanno quindi che sarebbe la nostra cointegrazione sostanzialmente ha una certa lunghezza noi abbiamo quando abbiamo individuato questo cioè quindi che sono alla massima lunghezza noi siamo sostanzialmente a questo livello qui di 2 e poi si chiamano 2 z scol poi gli spiego perché z scol comunque a livello 2 di 2 le azioni standard quindi al 95 per cento di probabilità che cosa pensiamo beh provate immaginare il guinzaglio quindi si è arrivato è arrivato di qui torna indietro e quindi la distanza fra i due sarà sicuramente minore magari potrebbe ritornare ad essere della stessa ma tenderà a essere minore quindi è un sistema di trading molto semplice si fa considerando appunto due soli livelli di 2 e di più 2 deviazioni standard quindi si entra a mercato quando sono più 2 oppure quando sono meno 2 e si chiuderà la posizione quando sarà a zero noi lavoriamo in z scol quindi un titolo diviso un altro titolo darà origine ad un terzo grafico che è lo spread che però non è espresso anzi che è espresso in una misura univoca per tutti i titoli quindi qualsiasi sia il valore del titolo noi troveremo questa misura che è comparabile e si chiama non abbiamo chiamato noi si chiama z scol sostanzialmente che cos'è è un valore adesso ve lo semplifico è comunque il valore di una media di close quindi storico del titolo diviso la deviazione standard e quindi viene fuori lo vedete qua sotto z scol viene fuori che coincide due z scol coincide appunto a due deviazioni standard quindi noi lavoreremo con degli z scol detto questo che a parte forse quella un po' più più difficile quella un po' più strana da capire poi vedete la semplicità con cui viene fatto il trading il trading vero e proprio allora l'over spread scanner si apre l'over spread scanner io l'ho già aperto quindi si apre l'over spread scanner che è questo si mette dentro una lista di titoli si sceglie una lista di titoli e poi si lancia e lui da solo automaticamente fa tutti i suoi calcoli non spaventatevi di tutti i numeri che si vedono perché poi comunque andrete a cercare il numero che vi interessa in base alle informazioni che volete avere quello che per il momento a noi interessa è trovare una coppia di appunto di simboli che abbiano una prerogativa innanzitutto quindi quella della cointegrazione la cointegrazione massima la cointegrazione può essere massima quindi uno e se io ce l'ho e quindi abbiamo diversi sceglierò appunto una coppia che abbia la cointegrazione uguale a uno poi cercheremo come in seconda battuta quelli che hanno appunto come dicevamo lo z score che sta attraversando o il più 2 o il meno 2 in questo caso abbiamo vedete qui abbiamo un meno 2 e 7 e qui un meno 2 e 0 5 che è più vicino al meno 2 ed è la direzione sta andando in direzione up difatti noi due deviazioni standard sono negative quindi l'abbiamo sotto da meno 2 lui salirà per andare a 0 e quindi salirà in direzione up quindi la scelta è fatta abbiamo una scelta che è il titolo la coppia atlantia con exor cosa facciamo a questo punto beh è molto semplice atlantia e exor vediamo in un attimo come si presentano questi sono i titoli in rosso exor in verde abbiamo atlantia in arancione lo spread lo grafichiamo nell'interno quindi lo z score di questo spread e vediamo che abbiamo appunto il livello di più 2 e di meno 2 vi ricordo che sono questi più 2 e meno 2 quindi immaginatevi il 95 per cento di probabilità sui due fronti che cosa dobbiamo fare è una cosa molto semplice noi dobbiamo entrare al mercato quando c'è questa situazione quindi quando da sopra lo z score attraversa il 2 qui si entra short vedete è anche rosso poi va in giù quindi short e si chiude quando il titolo arriva a 0 poi si aspetta che il titolo ritorni su per esempio qua e come potete vedere qui si entra long naturalmente il titolo quindi immaginatevi la passeggiata del cane del padrone il guinzaglio si è di nuovo allungato alla stessa misura di prima si stanno avvicinando poi alla fine di nuovo arrivano alla stessa misura di prima ma poi attornano prima o poi arrivano a 0 a 0 si chiude si chiude la nostra il nostro trading in questo caso quello che faremo adesso vi faccio vedere proprio l'inizio è questo noi siamo qua quindi noi dobbiamo partire quando lo z score sta appunto attraversando il meno 2 o ripeto o il 2 in questo caso siamo vicini al meno 2 abbiamo scelto questo e quindi noi abbiamo questa coppia che deve andare long perché il titolo tenderà a fare la insalita e a fermarsi allo 0 va bene di questa coppia ricordatevi che è sempre il primo che comanda quindi il primo dovrà essere messo long quindi la coppia è atlantia exor quindi atlantia sarà long exor sarà short va bene lo possiamo fare esattamente con i titoli semplicemente con i titoli ricordatevi però che se lo facciamo con i titoli dobbiamo avere lo stesso peso quindi una bilancia che deve avere la stessa quantità se si muove di una percentuale di movimento deve guadagnare sia una posizione rispetto all'altra non dobbiamo creare delle differenze di pesatura fra i due quindi che peso dobbiamo usare beh semplicemente andiamo qua e vediamo per la coppia che abbiamo scelto noi che è la seconda atlantia su exor abbiamo atlantia che pesa 2,215 e exor che pesa 1 quindi ogni azione di exor ne avremo 2,200 di 2,2 di atlantia quindi 1000 azioni exor 2215 azioni atlantia così è lo stesso peso e noi abbiamo pareggiato la posizione siamo in equilibrio sostanzialmente e dobbiamo ricordarci di partire dalla quantità più bassa quindi del titolo che misura 1 sostanzialmente perché così poi possiamo moltiplicarlo una cosa che dovete ricordarvi è che appunto siccome noi abbiamo uno z-score negativo quindi andiamo in su quindi atlantia le compriamo supponiamo che siano 2,200 che compriamo 1000 azioni exor dobbiamo venderle come facciamo a vendere 1000 azioni exor? non si chiedono in prestito titoli e non si può usare c-char quindi semplicemente si fa con le opzioni quindi si prende exor la cui una opzione proprio una opzione di exor governa 1000 azioni quindi si parte proprio da lì e si vende una call ATM quindi al valore che farà quando vendiamo a mercato quello che fa adesso sostanzialmente poi vedremo qual è quindi vendiamo una call e compriamo una put quindi noi vendendo una call e comprando una put abbiamo creato sinteticamente un titolo short anzi 1000 azioni short a quel punto abbiamo solo da comprare 2215 azioni di atlantia e questo è quello che noi dobbiamo fare poi controlliamo il nostro z-score e quando lui arriverà a 0 noi chiudiamo entrambe le posizioni chiuderemo le opzioni e chiuderemo i titoli una cosa che si intuisce è che se noi abbiamo i titoli quindi abbiamo le perdite sui titoli che sono si dice infinite non sono chiaramente infinite perché c'è vanno verso 0 quindi però non abbiamo un limite sulla perdita allora possiamo farlo con le opzioni con le opzioni noi allora utilizziamo delle strategie in opzioni quindi atlantia è long e noi facciamo quindi la strategia in atlantia semplicemente così quindi è una strategia rialzista uno sped rialzista comperato una call venduta un'altra call quindi questa è la call comprata questa è la call venduta abbiamo un rischio massimo di 540 euro per 450 euro di guadagno quindi la parte long di atlantia l'abbiamo messa a mercato adesso dobbiamo mettere a mercato la parte short di exor quindi si tratta di fare una strategia ribassista scusate è sbagliata questa me ne ero preparate ma si vede che me ne ero preparate male eccolo qua siamo ribassisti su quindi mettiamolo in 3x3 quindi siamo ribassisti su exor e abbiamo un massimo rischio di quasi 400 euro contro un profitto di 400 euro quindi siamo sufficientemente equilibrati il problema tra virgolette l'attenzione che noi dobbiamo porre quando facciamo le opzioni è di nuovo sulla pesatura cioè di avere comunque due figure che pesino nello stesso modo come facciamo con le opzioni ad avere un conteggio con le azioni è facile abbiamo un numero ma con le opzioni come si fa? molto semplicemente noi abbiamo una proprietà della opzione che si chiama delta 1% che è questo che cosa rappresenta? beh il delta rappresenta di quanti soldi si muove la strategia al variare dell'1% del sottostante quindi se noi pareggiamo il delta 1% delle due strategie noi abbiamo creato una coppia sostanzialmente pari come peso allora vediamo, mettiamone assieme così vediamo la differenza che c'è fra le due quindi abbiamo di qua Atlantia di qua ci mettiamo Exor e valutiamo il delta il delta a combinazione va bene perché abbiamo una piccola differenza rispetto al delta abbiamo un delta positivo di 18,20 positivo perché verso d'extra guadagna contro un delta negativo di 15,48 quindi lo modificheremo quando ci sarà una differenza attorno al 20-30% come valore come si fa a modificare il delta 1%? beh semplicemente modificando il numero dei contratti per esempio riguardate questo delta è 18 se io modifico il numero di contratti l'aumento di 1 passa a 36 quindi se avessi avuto bisogno di aumentare questa parte la parte di Atlantia avrei dovuto solo che aggiungere un contratto da questa parte caso contrario sarebbe stato da aggiungerlo dalla parte di Exor e quindi avrei modificato il numero di contratti di opzioni di Exor e avrei modificato il suo delta 1% da 15 l'avrei portato a 30 ecco anche qua molto semplice da seguire vogliamo ricordarci una cosa cioè ritorno sullo scanner eccomi qua pazienza un attimo apriamo la nostra Exor Atlantia ecco dobbiamo ricordarci che quindi seguirà prendo un puntatore rosso così si vede meglio quindi noi la mettiamo a mercato adesso o con i titoli o come avete visto o con una strategia di opzioni o con un'altra strategia di opzioni basta che siano una rialzista e una ribassista e quando arriverà allo zero magari in un modo abbastanza veloce come questo oppure piuttosto convulso come questo non ha importanza noi andremo a chiudere l'operazione una cosa importante è quanto tempo ci mette arrivare verso lo zero perché da qui a qui ci ha messo molto meno che non da qui a qui allora noi siccome lo facciamo con le opzioni se lo facciamo con le opzioni e lo facciamo con le opzioni comunque perché anche facendolo con i titoli utilizziamo le opzioni per fare il titolo short noi dobbiamo sapere su che scadenza dobbiamo andare quindi ritorniamo i nostri numeri che ci sembrano tanti però adesso ne abbiamo bisogno e cerchiamo quanto tempo ci vuole per tornare a zero quindi c'è una stima di barre per tornare a zero quindi sono 115 barre siccome sono barre giornaliere sono 115 giorni andiamo a vedere sulla nostra strategia quanti giorni noi abbiamo messo scadenza l'abbiamo fatta con 190 giorni quindi abbiamo scelto tra tutte le scadenze che potevamo scegliere abbiamo scelto quella che ci dava vedete questi sono i giorni questi tra parentesi 15, 43, 71 106, 190 ne avevamo bisogno di 115 noi abbiamo scelto appunto una scadenza più lunga così non rischiamo che si chiudera l'opzione c'essi l'opzione senza che siamo ancora arrivati allo zero questi sono gli unici accorgimenti che noi dobbiamo su cui noi dobbiamo porre attenzione quindi è una cosa molto semplice molto rilassante perché sappiamo già che poi eventualmente dovesse poi andare in una direzione da questa parte noi abbiamo poi delle mosse correttive perché le opzioni sapete si possono correggere quindi è un trading che ripeto essere molto rilassante e molto efficiente lo potete fare con tutte le assets che volete quindi valute e commodities e azioni naturalmente ed ETF più ce ne sono meglio è perché meglio troverete le cose qui integrate l'unica attenzione che dovete porre è che siano della stessa borsa perché devono partire le negoziazioni e chiudersi nello stesso orario di negoziazione i time frame su cui si possono fare è il giornaliero ma si può passare anche a time frame più bassi con le opzioni non si può non conviene scendere sotto l'orario quindi si possono fare magari con i titoli quindi con le azioni con i future si può fare questo spread trading anche con time frame a 5 minuti bene vi ringrazio per l'attenzione alla prossima grazie grazie